Farà tappa a Sesto San Giovanni e a Broni un tour contro gli infortuni sul lavoro. Solo nel 2015 in Italia quasi 1200 incidenti mortali. Parte il 28 aprile da Monfalcone per percorrere 4000 km il tour per la sicurezza sul lavoro, promosso dall'AMMI, l'Associazione Lavoratori Mutilati ed Invalidi, con il patrocinio del Senato, dell'Associazione dei Comuni e della RAI, che ne è media partner attraverso la nostra testata giornalistica regionale. Una sorta di pellegrinaggio laico che toccherà per 51 giorni 40 città che sono state protagoniste di tristi episodi di infortuni sul lavoro, che purtroppo sono sempre in numero crescente. Nel 2015 gli infortuni denunciati sono stati oltre 600 mila, quelli mortali più di mille e le malattie professionali hanno interessato quasi 59 mila lavoratori. Molto importante è stato sottolineato è il lavoro di prevenzione con la formazione dei lavoratori e l'informazione presso i giovani. Siamo convinti noi che ci occupiamo di informazione dal territorio e per il territorio, che dobbiamo combattere l'indifferenza anche su un tema così importante come questo, dobbiamo evitare di intervenire soltanto dopo lutti e tragedie. Quindi daremo questo nostro contributo, sarà un modo anche per ritornare su vicende delle quali i nostri Tg e i nostri GR si sono ampiamente occupati in passato.